hello bad guys benvenuti a questo nuovo video oggi come avevo già accennato nel video scorso andremo ad aprire il chronicle pack la seconda ondata come per quello scorso diciamo sono 30 pack se non erro eccoli qui solo che appunto sono sono bianchi riguardo il contenuto invece non ho idea di cosa ci aspetti e come al solito vi ricordo il mio link di applicazione con la gillazor che è un piccolo negozio che è aperto da un pochettino potete usare appunto il mio codice sconto che vedete qui in basso a destra sdrago 5 e appunto ottenere un codice del 5% anche sui prodotti in pre vendita comunque detto questo per quanto riguarda il chronicle pack allora non ho idea del contenuto spero sia qualcosa sempre inerente a edison o to stengu plant attenzione già questo è un po fuori dal formato ok colpo scuro ah ci sta la diva e necroz quindi diciamo siamo credo qualche formato un po più avanzato almeno secondo quanto visto dal primo pack un altro dilemma c'è una dilemma scusate un'altra domanda che mi è stata posta è stata quella inerente a un pack un possibile pack italiano da più di un utente per quanto riguarda il chronicle pack allora come ce l'hanno sta shadow fusion uh black rose dragon attenzione il blossom è un zemeister ok quindi già qui andiamo con il formato 2011 2012 in questo caso ok e sto dicendo avete chiesto il pack italiano e effettivamente ne esiste uno che è il dusa che ho portato anche due volte qui sul sul canale il link magari del video vi lascio in descrizione ospizzatevi il canale che contiene appunto la questa figa o la formulina il battle fater o il veiler attenzione questo formato 2011 è veramente rotto e appunto ho fatto qualche video inerente al dusa e le carte all'interno sono tutte ultra rare e contiene appunto carte molto interessanti per il formato edison anche nel 2010 almeno mi viene in mente solo la tour la pod a tour la pod e solen warning ura veneti semplice questo formato 2012 anche uno dei miei preferiti se magari mettessimo a fuoco sarebbe meglio e si sono tutte ultra rare però appunto qual è il problema di quel pack è che appunto sembra non trovarsi più in giro purtroppo io devo essere sincero l'avrei portato più volte e volentieri sul sul canale lofion non mi ricordo che hanno fosse se era 2012 2013 o 2014 addirittura deve essersi in scena non mi ricordo affatto credo fosse prima del dragon ruler poco prima queste ragazzi corgetemi se sbaglio ok goyo guardian quindi questo utile per edison l'aglia per 2012 black king il gattino gattino a soccorso quindi la prima ultra rara che troviamo carino in coreano credo vi manchi quello la con l'alternative artwork quindi diciamo che anche qui sembrerebbe esserci roba edison o qualche formato più in là però a prima vista devo essere sincero credo di preferire un pochettino la prima ondata un zombie autore una car car di interessante quindi se volete porterò un'altra apertura della first wave che di certo non credo possa andare meglio appunto di quella volta scorsa visto che abbiamo trovato la money card praticamente del 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 mazzo ok una pod goyo guardian non fai blusso e apri la tour ok obiettivamente penso che dusa sia il cioè sia il figlio di del canale col pack 1 e 2 a questo punto perché le carte sono simili in pareggio costante resti cut da dusa non voglio dire chi cazzate az bibliotecario laraldino non fai blusso ma un altro ultra rara abbiamo il brionac coreano anche se ormai si trova in praticamente in tutte le rarità a brionac però dai ultra in coreano non non sono solito aprire box coreani anzi perché nuovo questo è il mio secondo box in assoluto coreano l'odio per questo mazzo trisciula addirittura ok ragazzi perché nel formato 2011 che io come sapete adoro sia quello tur tengo plant diciamo che la carta forte di tutto il formato secondo me era lei lei che ovviamente era difficile da contrastare ci sono ci sono maniere però se l'oppo di parte di primo con con questo fai cazzo veramente cazzo o magari settato solo una e ti fa il giochino che è un altro black cross scale e questo che cacchio era me la ricordo che era periodo tipo 2015 2016 o 2017 addirittura ma non mi ricordo il nome quanto è tanto meno l'effetto ok ragazzi formato 2015 io ve lo consiglio e stra consiglio soprattutto se siete giocatori di edison è veramente figo è un po più veloce devo essere sincero questa la fotocopia del pack di prima è un po più veloce però sicuramente hai tante maniere per counterare l'oppo tra cui maxi che direte magari per i giocatori di modern del formato moderno attuale un'altra ultra questa non mi ricordo manco il nome ai maxi che però appunto non fai tipo più 26 come ho fatto io l'ultima volta su master 2 che aveva 23 carte tipo un'altra volta a 18 anzi lì diciamo lo andavi a fare l'oppo si fermava ma esagerando tranne qualche eccezione tipo il caracoli turbo quando partiva andavi a pescare un 3 4 carte se l'oppo non si fermava perché di base faceva tour io facevo vedono maxi e niente ho fermato un po in anticipo poi vabbè c'erano anche carte come solen warning che all'epoca valevano un sacco erano non erano proprio questa è una super non erano proprio super accessibili però in qualche maniera scambio roba varia riuscivi a procurartene e niente e poi c'è la pod porca miseria la pod mi ricordo che l'uscita erano tipo 120 euro proposito di 2011 c'era anche il 6 abbiamo fatto il 3 per della vanity semptiness ok non so se la mia impressione perché sta andando non dico in rush però ditemi se magari controllate anche dal video stesso se tipo i pack che ho aperto certi erano letteralmente la fotocopia del dell'altro che mi ricordo di aver trovato quello di necros di prima l'inzetto lo stesso pack vedi tour ah no ok questa è un altro super che non ho idea di cosa sia e la lingua non aiuta diciamo che un po mi sono fermato con kiyuki appunto del 2012 13 circa e poi come sapete ho ripreso per un pochettino poi ho rimollato ok e ragazzi poi un'altra cosa un po un po più off topic se magari avete bisogno di qualche carta che vedete qui che ho spostato e ho trovato in 3 miliardi di copie chiedete magari ci accordiamo che gli posso o vendere o le scambiamo non lo so vedete voi e a questo punto io vi inviterei a far parte del mio discord il mio discord che trovate qui sotto in descrizione o nel banner di youtube e a seguirmi anche sui social se può interessarvi così posso anche interagire con una secret attenzione una secret di cui vorrei tanto dirvi il nome ma onestamente non lo so che c'è disegnato solo non riesca a capire scusate vabbè io la faccio era a voi giustamente ok allora qua se il blue ice era la money card dell'altra volta qua se non erro non voglio dire cavolate la money card dovrebbe essere il mago nero secret parallel bla 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 tipo il blue ice che abbiamo visto nel pack precedente che se un'altra secret che ok che se non avete visto consiglio di consiglio di andare a vedere perché è una cartina veramente interessante e soprattutto completamente unexpected 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 araldino mazzo infame carcardi il goio un'altra super stiamo a spostare le più rare che poi ragazzi quanto riguarda i paccoreani l'altro diciamo quesito mi avete sollevato ma giustamente dite perché konami non può utilizzare le carte ocg negli eventi ufficiali e giustamente ci sta come vedete eccola questo line warning che vi citavo prima ok e ci sta la critica solo che penso che sia dovuto un po al fattore economico perché confermatemi se sbaglio però il konami dovrebbe avere sia diciamo la parte occidentale che quella orientale e appunto se potessimo se avessimo accesso anche alle carte ocg diciamo che quella occidentale ci perderebbe un bel po e non è un caso che tutti i pack che stanno facendo pure le ristampe di alcune carte e i print pack di ukule stampati che fanno molto effetto nostalgia appunto vengano i stampati così così a caso certo vedo l'onda del momento il telami come cacchio si chiamava lui lui era bello forte mi ricordo l'exeed livello 6 veramente veramente grosso ok quanti pack ci rimangono 1 2 3 4 e 5 5 pack ne abbiamo già oddio scusate abbiamo già trovato due secret cioè già trovato è finito il pack il box ok la emptiness la diva e il dark love ok siamo fatti il 3x di diva in coreano magari avrei potuto evitare di comprare quelle la mie singole in vabbè vedi capito diciamo in in italiano inglese che cacchio è la lingua fader e che me no scusate io purtroppo i pendulum non mi sono mai 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 piaciuti che trovate veramente broken e un po penso che lo siano anche il link però ovviamente ragazzi questo è solo il mio pensiero personale se vi divertite giocate tranquillamente al gioco perché appunto ognuno ai suoi gusti avete appucciato il gioco magari con tempi diversi diverse la soul charge questa non giocava nel meta in cui il periodo in cui si si giocava però mi sarebbe piaciuto un sacco perché ti giuro ragazzi sento gente che ne parla benissimo del periodo 2014 circa ne parla veramente bene e io avevo smesso in quel periodo che oltre tutto c'è stato il boom di youtube e io come fesso l'avevo smesso sia da youtube che altri trottame ok e l'araldino l'ultimo pack l'ultimo pack e andiamo a vedere che troviamo e per quanto riguarda invece il prossimo video io so sempre sta guida dal tutto tengo plant però ragazzi con tutte le mansioni di lavoro che ho è molto complicatino finire sia il copione che diciamo lo script ok quindi abbiamo ricapitolando tre ultra no quattro ultra due secret se trovassi due secret e uno due tre quattro cinque e sei super se vi fanno piacere questo tipo di contenuti ve ne porterò un altro perché eh eh udite udite ho preso un altro manca di manca uno manca del due se non erro e niente ragazzuoli io vi ringrazio come sempre della compagnia se volete seguirmi sul canale mi farebbe un sacco un sacco piacere e ci sono anche i miei social instagram facebook e anche discord per creare una piccola community assieme detto questo grazie ancora per grazie ancora per aver guardato il video fino a questo punto e rivederci al prossimo video see you next time ciao ciao Grazie a tutti.